Il Tecnopolo d'Abruzzo è sempre più attrattivo e da ieri ospita anche un nuovo spin-off universitario R13 Technology SRL, uno spin-off che presenta soluzioni innovative nel campo dello sviluppo, progettazione e produzione di schede elettroniche e motori elettrici, sviluppo firmware e software. L'amministratore è un 39enne aquilano, ingegnere Flavio Dignocenzo, ex dottorando dell'Atene Aquilano. Per il direttore del Tecnopolo Roberto Romanelli si tratta dell'ennesimo salto di qualità, con un centro di eccellenza che non solo apre alle aziende e ne supporta la crescita, ma mette anche a disposizione infrastrutture e strumenti. È una realtà importante, proviene dal mondo accademico, dal mondo dell'università e questo lo fa da collante con altre realtà. Consideriamo oggi che R13 ha in animo quello che è il progetto del futuro sostanzialmente. Loro lavorano già da diversi anni, oggi stanno crescendo sulla progettazione e realizzazione di motori elettrici. Ebbene, con questo ulteriore tassello noi andiamo ad implementare una filiera molto importante. Considerate che R13 già collabora non solo con grandi player internazionali, ma soprattutto con grandi player internazionali che sono situati sempre qui nel Tecnopolo. Il Tecnopolo d'Abruzzo è sempre più attrattivo e la sua crescita è frutto dell'attività di relazione Attraction che si sta tessendo in ambito europeo ed oltre. Ne riprova il fatto che il Tecnopolo guiderà un'importantissima missione ad Abu Dhabi e Dubai con rappresentanti istituzionali dell'Ateneo ed aziende del Tecnopolo che verranno messe in contatto commerciale per la realizzazione di importanti progetti, obiettivo evitare sempre più la fuga dei cervelli. Il nostro hub produttivo oggi vede circa 42 realtà provenienti da 7 nazioni diverse e sono il frutto di una nostra attività di attraction. Abbiamo girato il mondo, abbiamo stretto partenariati importanti con diverse realtà, con diversi tecnopoli proprio per arrivare a questo obiettivo. Abbiamo reso internazionale un posto che prima era prettamente locale e cerchiamo di contrastare quella che è la fuga dei cervelli. Considerate che con gli ultimi insediamenti, ma che seguono altri, che ormai la nostra realtà sia cittadina sia nazionale ma nazionale conosce bene, noi tendiamo ad invertire questa tendenza. Considerate soltanto che queste realtà di cui stiamo parlando hanno inserito giovani che sono tutti ricercatori, ingegneri, persone con post-doc e che quindi stiamo combattendo quello che è il flusso verso l'esterno.